Bene, pronti qua per la partita. Mostro velocemente i personaggi con le varie carte che hanno, anzi di eroi e di abilità e possiamo partire. Allora, visto appunto le abilità direi che lo scolaro può andare benissimo in montagna a fare delle belle ricerche e a dir la verità c'è anche il veggente che può fare qualcosa. Però vediamo prime mostre. Allora, lo Shroud qui protegge gli altri mostri, gli altri Blight, quindi bisogna, se ce ne sono altri qua, bisogna tirare giù lui prima di poter tirare giù gli altri. L'oblivion qui rompe le scatole perché fa perdere un turno se non riesco ad ucciderlo con il combattimento e ad ogni turno, ogni fine turno di ogni eroe che finisce qua dentro, in questo luogo qua, quell'eroe deve tappare una carta potere. poi l'Homen tanto per fare l'esempio, qua peschi carte più alte, Dark Fog è quello che aumenta la difficoltà, il Raven è un mostro normale che però attacca ad ogni fine turno dell'eroe e qua perdi un turno quando lasci questo luogo. Allora, visto che sono vicini solo per comodità possiamo mandare entrambi lì, possiamo mandare entrambi là, quindi entrambi fanno un'azione di travel, muovono, guadagnano una segretezza fino al massimo 5, ma questo parte da 6, questo parte addirittura da 7, quindi non serve. Allora muove lo scolaro e muove anche lo scout, non pescano carte evento perché lo start, non c'è negromante, la fase degli eventi si schippa se inizi la fase quando sei in monastero, quindi siamo già qua nelle action e hanno fatto questa travel che significa scolaro qua e scout qua. Alla fine del turno di entrambi, quindi c'è la prima lo scolaro, fine turno scolaro, poi scout, fine turno scout, entrambi devono tappare una carta. Allora direi che lo scolaro tappa foresight e cross country la tappa lo scout. Le altre due donne, le altre due donne potrebbero andare in foresta. Nessuna delle due attacca perché non hanno carte buone per l'attacco, quindi tirano entrambe un dado, quindi tanto vale muoverle entrambe lì, quindi muovono entrambe lì, qua e qua. A differenza di questo mostro qua, questo a fine turno non fa niente, quindi non succede niente a queste due signorine. Questo non so perché sia qua, forse era rimasto dall'altro video, ma parte a zero. Adesso tocca al negromante, quindi la prima cosa va su l'oscurità e il negromante tira un dado per vedere chi vede come eroe. Vede, tra virgolette, tutti quanti gli eroi che hanno una segretezza due o meno. Partono tutti da livelli fotonici, quindi non vede nessuno e allora non vedendo nessuno segue dal luogo in cui è i numeri che sono indicati qua. Facendo tre, prende questa strada qua per il villaggio e spona in villaggio un gate. Fastidio, fastidio. Il gate che cosa fa? In pratica teletrasporta il negromante. Gli dà un più uno per il prossimo tiro sul trovare gli eroi e gli permette di teletrasportarsi direttamente sullo spazio dell'eroe. Viceversa, di solito, il negromante segue la via più breve per avvicinarsi all'eroe che ha visto. Primo turno andato. Secondo turno. Attacchiamo con lo scout. Prima però, come ordine del turno, devo pescare una carta e vento perché lui è fuori del monastero. Quindi tiro un dado e prendo il più alto. Quindi nessun effetto col 5 e col 6. 3, 4 perdo una segretezza. 1, 2, perdo una grazia. Quindi che era fuori schermo. Comunque era 1. 1 lo rifaccio, perdo una grazia e via qua. Poi perdo una segretezza perché attacco l'oblivion e devo fare 4 altrimenti perdo un turno. Perdo una segretezza perché come azione faccio attacco, vedi, fight on blight e lose one secrecy. Quindi devo fare 4 o più 4. Direi che anche se è un bilico ci sta, quindi è morto l'oblivion. Facciamo lo scout. Eh sì, ciao. Facciamo lo scolaro. Lo scolaro deve fare 4 per cercare in montagna e in più poi... Vabbè, facciamo intanto 4. Prima devo fare 4. No. 2, no. Bon, allora uso preparation che la tappo dopo aver fatto un qualunque dato per rirollarlo. Cioè dopo aver fatto un qualunque tiro per rirollarlo. 6, l'ho fatto. Adesso uso come bonus Thrunes. In un turno puoi usare quante carte bonus vuoi. Usando Thrunes, siccome ho fatto un successo, pesco due carte e scelgo quella che voglio. Quindi montagna o chiave o il Forgotten Shrine. Ah beh, non male anche il Tempio dimenticato, ma non mi serve niente. Due grazie. Prendo ovviamente una chiave. Bene. Scendiamo dagli altri due. Gli altri due fanno la stessa cosa. Non c'è nessuno che ha abilità particolari. Ah no, sì. La veggente. Perché uso? Gli faccio usare Dove. Quindi, come prima cosa, agisce. Allora, agisce lei. Quindi indico che ha agito. Pesco una carta evento che è Mind Leach. E in base alla segretezza che ha lei, che è 6, si trova un Mind Leach giovane, o 4 o 3. Se fallisco devo tappare una carta potere. Quindi posso eludere col 3. Non ha abilità particolari per eludere. Quindi devo solo fare 3. Ma facendo 1 non ci avvicino neanche un po'. Quindi tappo questa carta qua. Poi come sua azione fa questa. Quindi tappa questa qua per pescare una carta, un risultato ricerca senza necessariamente dover fare i 4 sulla foresta. Quindi tiriamo un dado. No, che tiriamo un dado. L'ho appena detto. Quindi Foresta trova un Charm. Ah vabbè. Charm, che è con questa roba qua, permette in pratica di discartarlo per rinrollare tutti quanti i dadi. Quindi non ho trovato una chiave. Fine del turno della veggente reagisce questo Shroudo qui, ma non ha, non ha in pratica nessuna reazione che possa danneggiare l'eroina. Quindi tocca la Shyamana. Evento per la Shyamana. Barghest. Allora ho 4, ho 4. Quindi se fallisco il fight perdo una vita e se fallisco l'illude perdo una segretezza. Direi ovviamente che uso, uso balance, che mi aggiunge un dado sui tiri di evento, compreso anche l'elludere 6. Bene, quindi non ho fallito questo dado qua. E adesso come azione potrei o cercare a mia volta con la Shyamana o tirare giù quel blight lì. Cerchiamo anche con la Shyamana dai. 5, preso. In foresta c'è un tomo. Un bello oggettino perché mi permette di mettere una di queste carte che ho qua, quella che voglio, sotto il mazzo e pescarne due, tenerne due. Quindi ne do una per due. Direi che visto come siamo messi, questo va benissimo per gli eventi. Questo va benissimo sempre per aggiungere dadi. Questo totem qua adesso non mi serve, quindi direi che il tomo saluta il pubblico subito, che vediamo che cosa fa. Quindi metto via questa carta qua. In fondo va il mazzo e ne pesco altri due. E pesco l'anticipazione, quindi elude sempre con due dadi. Ottimo. E un altro totem, ovviamente è una particolarità della Shyamana, quindi l'idra totem, che in pratica tira otto dadi e per ogni sei distruggo un blight in quella location. Figo, figus. Bene, tocca il l'ho fatto a pelloso che aumenta l'oscurità e poi tira un dado col più uno, in questo caso per il gate. Quindi fa i sette, quindi sgamma tutti quanti. No, aperta la Shyamana no, perché c'ha sette, però sgamma tutti quanti gli altri. Sgamando tutti quanti gli altri, a parte che il gate non serve, perché tanto in ogni caso farebbe un passo qua, un passo qua, quindi questo ha senso, vabbè, partendo dal villaggio non è che abbia tanto senso. Dà più fastidio il più uno, che non il teletrasporto. Ne becca tre, quindi devo fare random chi dei tre, quindi uno, due scolaro, tre, quattro scout e cinque, sei veggente. Quindi cinque, sei veggente. La veggente è qua, quindi questo si porta qua e crea un blight lì che comincia a rompere le scatole adesso. Quindi in foresta una dark fog. No, la dark fog. No, no, no. Perché in pratica fa più due di ricerca, quindi o la tiriamo giù, ma prima di tirarla giù devo tirare giù questo qua, oppure questo luogo per cercare lo lascio stare, ciao ciao, perché bisognerebbe fare 6 fine secondo turno bene new turn allora qui possiamo continuare a cercare quindi va allo scolaro pesca l'evento aggiungi un marker ad una quest altrimenti se non ci sono queste tira un dado e vediamo dove si piazza la quest quindi tira un dado 6 che si piazza nel villaggio ed è questa la maledizione antica devo fare due successi per avere una chiave non male altrimenti s'espira cioè nel senso se passano cinque turni senza che io aggiunga o raggiungo due successi tutti quanti gli eroi perdono una grazia quindi questo lo mettiamo qua per ricordarcela e poi il lo scolaro il lo scolaro fa una ricerca 2 un pifero preparation era esattata da prima quindi non posso farci nulla a quel due lì mentre lo scout potrebbe avvicinarsi qua e cominciare a raccogliere una chiave qui allora come azione devo fare per far successi devo tirare due dadi ed ho un successo per ogni dado che fa quattro o più abbastanza easy qua 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 va bene allora andiamo con lo scout scout che pesca l'evento che lo confronta con la oscurità bello è semplicemente a due quindi ho sausto o tappo una carta potere o perdo una segretezza tappo blind spot anzi che no che scemo perde una segretezza quindi vado a 5 però poi faccio l'azione di movimento quindi vado qua che riguadagno non è che la riguadagna ormai ho deciso così basta questa alla fine del turno non fanno nulla quindi non subisce niente lo lo scout e gli altri due qua sotto abbiamo detto che quella donali ormai da lasciarla perdere lasciandola perdere e avendo la te gente già due carte tappate direi che come azione muove che va in villaggio sì prima però pescare no 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 aspetta 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 che facciamo le cose giuste scusa scusa allora inizia il turno nello spazio del negromante quindi perde una segretezza poi pesca una carta evento che aggiunge un'altra missione nel 55 è una swamp nella swamp aggiunge questa infestazione di goal che con mi dà una come vantaggio mi darebbe un risultato di ricerca e poi fa l'azione di movimento quindi prende e va in villaggio ultima la sciamana sciamana stessa cosa della veggente va beh inizia il turno nello spazio con il negromante quindi va giù di uno e potrebbe anche quasi quasi rimanere qua e attivare l'idra totem dai attiviamo l'idra totem quindi lo mettiamo qua per indicare che è in foresta e poi mi serve una seconda azione mi servirà una seconda azione come vedi per tirare quegli 8 da di là fine turno non subisce nessuna nessuno di questi attacchi tocca lui alza l'oscurità prima del tiro del movimento bisogna aumentare le passare del tempo per le quest quindi per queste missioni qua quindi questo uno e queste due aumenta la crescidera e poi tira per il movimento sempre col col più uno qui 5 più una 6 gamma tutti quanti tranne no gamma tutti cioè non vede nessuno se non lo scout la sciamana è a 6 la veggente è nel monastero quindi non può essere scoperta lo scolaro è a 6 lo scout è a 5 quindi si muove verso lo scout e genera un altro bel mostriciatolo qua nel villaggio cioè uno zombie forse era meglio mettere l'idra totem nel villaggio presupponendo se avessi saputo bene nuovo turno facciamo le cose più semplici cioè la missione questa qui per recuperare subito una chiave ma essendo nello stesso luogo del negromante lo scout perde una segretezza e va a 4 poi essendoci l'omen questo bel mostricello qua pesco due carte evento e scelgo la più alta che non è 3 ma è 5 l'altra la scarto quindi è il dream meter che devo o combattere col 5 o eludere col 4 altrimenti lui crea un nuovo mostro direi che uso l'eludere con la carta potere speed 6 non serviva neanche la carta speed ed è bene poi come seconda cosa cioè come seconda cosa come azione dello scout tiro due dadi e con ogni 4 ottimo sa aggiungo due successi che sono quelli che servono per faccio vedere per due successi per completare e acquisire una chiave quindi queste le mettiamo via lo scout ha preso una chiave deve però subire l'attacco dello zombie quindi l'attacco dello zombie lo fa sempre con l'eludere e 3 ottimo e quindi non becca un danno e lo scout è fatto facciamo il nostro prode scolaro che continua a cercare in montagna quindi come prima cosa pesca una carta evento un shadow site tiri un dado e scelgo un di questi risultati qua scelgo per due due esatto un potere ottimo quindi devo tappare un potere l'unico che posso tappare è quello che mi interessava che era tra un s porca di una miseria che è l'ultimo potere che dovevo tappare vabbè ogni caso faccio ugualmente una ricerca prima di togliermi da lì e andare a fare no non serve togliere in ogni caso adesso faccio una ricerca col 4 si pesco però in questo caso una sola carta montagna c'è un artefatto male non fa l'artefatto becco la corona dell'oscurità all'inizio il tuo turno posso tirare un dado e se fatto 4 o più guadagno una segretezza fino a non male ed è finito anche lo scolaro altro turno semplice è quello della leggende che è nel monastero quindi non pesca ovviamente una carta evento perché si schippa interamente questo step qua la leggende sento nel monastero prega quindi pregare va bene non serve tirare non serve tirare due dadi perché in ogni caso la grazia non può andare più su del default che il default e 4 quindi già qua quindi stappa questi due qui però passa l'intero turno nel monastero quindi guadagna una segretezza fino al default e la leggende ha fatto rimane la sciamana che è sempre in foresta e che nel cercare qua nella foresta non è che sia proprio comodo comodo potrei provare usare l'idra totem così poi lo porto quali tra totem dai quindi uso l'idra totem tiro 8 dadi e dovrei fare 26 tiriamo questi belli 8 dadi e mi servono però prima di tirare con per attivare il totem devo per forza pescare un evento che mi dice non posso eludere devo per forza combattere se fallisco va su l'oscurità vabbè non mi interessa niente l'oscurità è ancora bassa quindi adesso basta che facciamo un 4 ecco ottimo e poi appunto come azione uso il totem quindi tiro 8 dadi qualche 6 c'è quindi ogni 6 tirato distruggono blight quindi distruggono questo e fantasticissimo però si disattiva ovviamente il totem bene togliamo sta roba qua e ha fatto anche la sciamana che era l'ultima quindi tocca a illo illo aggiunge uno qui aggiunge uno qua e tira un dado sempre col più uno per vedere chi trova 4 più 155 vede solo lo scout ancora e quindi rimane qua e fa apparire un lì c'è lì c'è non è più di tanto importante perché vabbè se lo attacchi per di una grazia e ogni pratica mentre rimane in questo luogo qua non puoi guadagnare grazia ma qui sarà da sistemare la cosa in un altro modo anche perché cominciano a essercene 4 danno fastidio nuovo turno facciamo lo scolaro semplice perché scolaro pesca una carta evento che gli dice tira un dado e guarda che cosa succede quindi col 4 non c'è nessun effetto ottimo e lo scolaro si nasconde stappa tutte le carte potere e guadagna una segretezza fino a cinque mai già sei quindi questo non ne beneficia ma quello che mi serviva era fare tutto questo bello stappo qua poi bisogna dare una mano qua a togliere roba in villaggio quindi agisce la nostra cara sciamana quindi la sciamana agisce e si muove no prima pesca un evento che è spendi una grazia o esausto tutti quanti i tuoi poteri vabbè quindi spende una grazia che va a 4 e si muove qua e alla fine del turno deve resistere allo zombie con un 3 però siccome c'è anticipation posso eludere con due dadi quindi due dadi per fare 3 e per fortuna che ne ho tirati due dadi ed abbiamo fatto anche la sciamana scout scout che inizia il turno con il negromante quindi scende a 3 comincia a essere facilmente sgammabile potrei nascondermi usando blind spot no non sarebbe un pifero sbagliato quindi lo scout agisce e potrebbe togliersi dalle scatole diciamo che lo scout potrebbe sostituirsi con il leggente al monastero per la prima pesca due carte evento perché c'è questo home in qua e la più alta e 4 quindi viene aggiunta allora si aggiunge un segnalino ad una quest attualmente in gioco quindi viene aggiunto la seconda clessitra qua e poi tiriamo un bel dado due 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 qua nelle rovine viene messo questo tribute dove basterebbe un solo successo per pescare un artefatto normale e poi si muove appunto quindi lo scout va a curarsi un attimino in monastero la veggente che caspiterina fa allora qui pensiamo di tirare giù roba con con il totem dell'idra potrei andare a vedere di fare questa missione qui o andare a pescare un risultato qua facciamo che si muove semplicemente quindi si muove e va intanto in foresta tocca a lui questo qua una cosa qua quindi manca poco e poi tira sempre un dado col 55 lo scout non lo può vedere perché è nel monastero e non vede nessuno perché sono tutti quanti a 6 quindi con il 4 lui si muove il castello e genera ma che bello ma che bello un evil presence l'evil presence in pratica mi toglie un dado per evadere i mostri per scappare i mostri senza combattere mi sono dimenticato che va anche qua è finito il turno nuovo turno semplice sciamana attiva il totem qua prima delle pescare due venti non dimentico quindi il più alto è la caccia land si confronta con il 6 della sciamana che è questo qui quindi o 4 o 4 se fallisco perdo una segretezza o 44 uso sempre l'anticipation quindi tiro due dadi no niente perde una segretezza che va a 5 poi deve difendersi dallo zombie e eludere lo zombie con due dadi perché uso anticipation buon perfetto e la sciamana è fatta leggente anche leggente semplice uso dose come come cosa quindi pesca automaticamente un artefatto ma le chiavi dove caspita sono la perla nera posso fare una qualunque azione addizionale durante la action step del tuo turno a faccio due turni perdendone uno vabbè però anche qui non ho tirato per l'evento che è un friendly eyes si contano i blight nella mia location che sono zero quindi perdo una segretezza scout è semplice scout prega quindi tappa l'unica carta che aveva e tira due dadi e per ogni tre o più va su di grazia però lì va massimo a 4 e in più siccome ha speso tutto il turno nel monastero guadagna anche una segretezza quindi anche la segretezza a 4 e anche lui ha fatto che è semplice rimane il nostro caro scolaro che pesca il suo bel evento che aggiunge una quest e la 2 e la mette due sempre in ruins che è una trapperti c'è il e cerca sempre adesso che visto che fra un s è libera chi direi che posso usare anche la corona dell'ombra perché tanto gratis e gratis e quindi prima la corona no e adesso la ricerca col 4 se pesco due risultati grazie a fra un s e in montagna mi becco una chiave altrimenti ci sarebbe un treasure chest anche il treasure chest è interessante perché lo scarto in qualunque momento per pescare una carta potere ma direi che prendo la terza chiave per andare a distruggere l'os negromantos devo avvicinare questi due qui per poi unire e scambiarmi gli oggetti quindi farmi dare la chiave dello scout fatto tutto tocca a lui quindi avanza qua un avanzamento qua una clessidera qua qua raggiunta la quinta clessidera spira senza essere risolta questa carta qua e questa carta qua dice che si espira avanzo di segretezza quindi siamo a sette poi lui tira il solito dado uno più uno due due non becca nessuno quindi fa uno che va nella swampa e genera nella swamp un questo un shades le ombre sono un normalissimo bene facciamo le cose semplici 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 agisce lo scout quindi lo scout agisce fa un movimento va qua ed ha ovviamente la chiave allo scolaro ed è finito agisce lo scolaro quindi agisce lo scolaro pesca una carta evento che si confronta con la segretezza che è 6 quindi è o tre o quattro direi che meglio eludere col 3 anche perché uso for site quindi e lui fatto eludato e come azione fa recupera la reliquia quindi scarta le tre chiavi che c'è e questa reliquia viene trovata e ce l'ha lo scout poi altro turno semplice è quello della leggente quindi leggente pesca questo si confronta con la secretezza che c'è con l'oscurità che è sette quindi o quattro o quattro tiro un quattro semplicemente ecco quattro risolto problema e uso la predizione che vediamo se mi serve poi per attaccare il negromante con 23 però non servono pifero questi due carte qui vabbè peccato e last but not least la sciamana che usa ovviamente il totem su questo ammasso di gente qua per prima cosa due carte evento grazie allo n3 e 3 scelgo quella che voglio quindi ho combatto oppure qua spendo una segretezza per guadagnare una grazia o spendo una grazia oppure quindi devo fare o 456 però sarebbe meglio pensando di usare balance sarebbe meglio che andassi per l'altare quindi uno più 12 fantastico quindi spendo una grazia oppure aumenta l'oscurità direi che aumenta l'oscurità che della grazia è meglio tenersela e in più fa come azione otto dadi otto dadi e questo si disattiva 12345 più che sufficiente per distruggerli tutti e brava bene tocca al povero negromante che si è trovato un po senza forza e quindi va a 9 questa questa viene messa qua questa viene messa qua e lui tira un daduncolo da gli faccio tirare il suo da dio nero 55 vede solo lo scout lo scout è quassù quindi si avvicina o da una parte o dall'altra indifferente quindi pari o dispari pari va su qua e aggiunge nel castello un altro home questa la situazione degli eroi all'inizio di quello che potrebbe essere il penultimo turno ottimo allora il negromante essendo qua non ha senso che andiamo a combatterlo qui perché venirebbe prima di tirare giù lui tirare giù questi qua quindi conviene che lo attiriamo o qua o qua che ci sono pochi mostri allora chi è che lo attira il la veggente o lo scout lo scout lo attira quindi lo scout potrebbe rimanere qua no ci uniamo tutti quanti qua allora vai scout pesca carta tira un dado 5 un più uno tutti quanti i tiri per il resto del torno non me ne faccio niente ma potrei peccato non me ne faccio niente quindi faccio un movimento vado qua e aumento la segretezza perché ho mosso lo scolaro ha in mano la reliquia quindi perde automaticamente una segretezza scolaro fa la stessa cosa quindi pesca una carta e refresh a tutti i poteri spendi una segretezza o pesca due altri eventi e sperdo una segretezza muove anche la veggente quindi tira fuori un'altra carta evento c'è un'altra missione nel tutte qui ho tutte nelle rovine ma questa fa aumentare l'oscurità ma non me ne frega niente si muove ma la segretezza è già 5 quindi non va oltre su e la sciamana direi che pesca una carta spende una segretezza o gira tutti quanti i tuoi dadi che tirerai in un 1 ma non lo frega perché tanto non tiro nessun tipo di dado perché come tipo di azione questa meno questa rimane in attivo ma come tipo di azione attiva la l'idra e tocca a lui che aumenta 10 qua quindi questo si attiva subito si crea due blight nella location del negromante dove muoverà miracoli non posso farne poi mette uno qua qua siamo cinque e qua siamo a tre quindi questa spira e aumenta la segretezza che questa qua quindi va a 11 e poi tira un dato per muoversi 4 non vede nessuno e quindi il 4 rimane fermo qua porca miseria quindi pesca nel castello lo spettro un banalissimo spettro e siccome se ne aggiungono due grazie a questo a questo livello di oscurità qua l'altro viene generato direttamente nel monastero cioè un tent se se ne accumulano 5 qui ciao quindi devo attirare in qualche modo il negromante nuovo turno lo scolaro potrei far muovere lo scolaro lo scolaro visto che c'è la la reliquia scende a 3 quindi potrebbe essere un buon modo per attirare il cattivo però vediamo che cosa pesca come evento quindi a caso selezionano i tuoi poteri spendi una grazia o piazza questa carta a no piazza quel quel potere fine del mazzo e ne pesco un altro e allora potrei 1 2 preparation 3 4 foresight 5 6 3 4 foresight quindi foresight viene messa un fondo al mazzo e viene pescata una bella research material più 1 dado nelle ricerche ma ormai le ricerche siamo a posto che lo scolaro ha fatto tocca alla leggente la leggente passa il suo charme allo scolaro che poi verrà usato per tirare giù il negromante e la leggente grazie alla perla nera fa due turni allora per andare a cercare di fare questa missione qui per tirare su un artefatto che vediamo se ci aiuta nel combattimento con il negromante quindi pesca una carta evento prima qua la segretezza e 5 quindi 4 più devo fare 6 devo fare 6 ho fatto 5 quindi perdono una segretezza ma come azione questa si muove qua e quindi ritorna 5 come segretezza per aver fatto come seconda azione combatte con un 5 e gli serve un solo successo quindi vediamo se ce la facciamo sì quindi con un successo togliamo questo qui che era fastidioso che avrebbe aggiunto un mostro e guadagniamo un artefatto che è questa bella roba che mi dà un dado in più per tutti a tutti quanti i tiri mentre la mia grazia è uguale o maggiore al valore di default che attualmente adesso a e come seconda azione ritorna indietro ritornando indietro perde un turno perché lascia la web e in più perde un turno perché usa la perla nera ma non sono accumulativi quindi perde un solo turno lo scout non fa niente se non pescare una carta evento un rituale posso spendere una grazia una segretezza per fare quello che c'è scritto qui conta i blight che ci sono le tue location se ce ne sono 0 negromante muove qua beh direi che ovviamente non spendo assolutamente un pifero perché così il negromante muove qua e essendo che lo scout è già la vuoi che tiri subito un 6 sì perché tanto il negro lo scolaro ha già mosso provo subito tirare giù il negromante metti mai che faccia subito un 6 no niente e ultimo come ultimo c'è la sciamana la reliquia non posso usarla perché l'ho appena usata però la sciamana perde una segretezza perché nello stesso spazio del negromante non serve ancora usare il totem perché non ci sono blight da distruggere lei potrebbe cercare per vedere anche lei con un 3 se trova qualcosa di interessante in questo posto per il combattimento no niente sì sempre pescando però questo che è un'altra nuova missione nel 3 nella foresta o 3 nella foresta bene ha fatto tutti i tocco a lui quindi questo va a 12 questa e questa si aumentano che lui tira per trovare due non vede nessuno questo idiota non vede nessuno e col 2 si muove purtroppo nelle rovine e aggiunge due mostri che sono un vampiro e uno shroud ecco poi due mostri peccato cavolo poi due doveva fare adesso nuovo turno allora abbassiamo sempre lo scolaro che è andato a due sperando di farsi sgammare questo giro e deve essere un buon modo prima vabbè due e cerca anche lui tanto è gratis no aspetta prima l'evento elude col 4 guadagno una segretezza se vinco altrimenti se fallisco esausto tutti i poteri ma però quindi eludo col 4 meglio che eluda col 4 ottimo e fa una ricerca quindi con il 3 no niente però uso preparation e ritiro niente che niente ma c'è anche research material quindi avrei un dado in più per le ricerche ha fatto quindi con il bonus pesco due carte di thrones e nel villaggio c'è un treasure chest o un tomo ovviamente prendo il tomo con il tomo butto via preparation e pesco due nuove carte che vediamo se mi servono in combattimento eccolo qua più non fight e l'attivo nato location e quando blight appaiono qua pesca una carta est e ne scarto uno quindi posso scegliere che tipo di mostro far apparire bravo scolaro scout perde una segretezza ottimissimo e cerca anche lui che così vediamo di pomparci qua 6 nel villaggio nel villaggio un artefatto ci prepariamo per la battaglia finale singlass keep the top card every deck in the game face up ok l'exasto prima di pescare una carta per cercare il mazzo e scegliere una carta mia scelta e dopo rimescono non male quindi tutte quanti mazzi sono così 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 le dac è stato non li uso però siamo così sarebbe un bella artefatto che è il blog ring che mi dà più un danno in combattimento non male la prossima carta evento è una semplice missione e questo invece sono allora qua dovrei andare nella swamp per tirare su un artefatto però la swamp insomma un po scout fatto scout fatto veggente semplice si tira su che non succede niente sciamana sciamana anche lei cerca metti che becchiamo acqua becchiamo una chiave potrei andare in montagna per pescare questo treasure chest in modo da avere un'altra power vedere che cavolo viene fuori si dai la sciamana vabbè peschiamo una carta evento che è questa quindi però a quest in rolla dai due che viene creata nelle rovine che questa corda di zombie e l'altro evento poi è il gard trovo e la sciamana si muove qua tocca a lui lui a 13 questo lo sposto qua lui va a 13 queste le mettiamo insieme qui si aggiunge appunto un acqua un acqua che sono quattro e un acqua e vediamo se trova sto cavolo di tre o finalmente l'ha trovato quindi ha visto lo scolaro e si avvicina allo scolaro però qua crea due blight quindi il primo è un corso porta di una miseria ladra vabbè per quando si entra in ogni caso e il secondo che è questo qui villaggio in web quando si esce questo rimaniamo così direi che ci siamo per l'ultimo turno allora prima sciamana pesca l'evento che è questo qua o con sei o col sei elude con fight per non serve quindi vabbè eludo con i sei visto che c'è il vantaggio di dell'anticipation e anche il vantaggio di balance quindi tiro due dadi per fare 6 ok fatti e come azione attiva l'idra quindi tira otto dadi per tirare giù quelle cose lì ci sono e quindi l'idra ha fatto il suo dovere bravissima per dire che inutile che perdiamo tanto tempo comincia cioè fa l'attacco lo scolaro quindi perde una segretezza perché c'è la reliquia e perde un'altra segretezza perché inizia il turno nello stesso spazio del negromante allora l'idea è tirare un dado devo fare un 6 quindi tiro un dado con lo scolaro a cui ne aggiungo un altro quindi tiro due dadi e aggiungo in più uno eventualmente posso buttare via il charm per rirollare un dado ma come bonus lo scout non c'è niente da dargli invece la sciamana e anche il veggente si soprattutto il veggente quindi qua come bonus posso esaustarlo cioè tapparlo all'inizio del turno di un altro eroe e quello era guadagna un altro dado quindi ora come ora il negro mancello scolaro tira tre dadi anche questo è un bonus quindi posso tappare anche questo e prima di qualunque dato per aggiungere due dadi a quel tiro quindi lo scolaro tira cinque dadi cercando di fare un 6 siccome altri bonus non mi pare di vederli lanciamo questi bei cinque dadini sperando di fare un 6 vinto grazie per aver guardato questo video alla prossima